L'ultima missione downward dove dobbiamo attaccare il castello ed uccidere Lord Darko L'ultima missione downward dove dobbiamo attaccare il castello ed uccidere Lord Darko L'ultima missione downward dove dobbiamo attaccare il castello ed uccidere Lord Darko L'ultima missione downward dove dobbiamo attaccare il castello ed uccidere Lord Darko L'ultima missione downward dove dobbiamo attaccare il castello ed uccidere Lord Darko Grazie a tutti. 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 Sai perché siamo qui. Certo che lo so. Mi deludi, Serana. Ti sei presa tutto quello che ho fatto per te e l'hai gettato via per questo patetico essere. Che hai fatto per me? Stai scherzando? Hai distrutto la nostra famiglia, hai ucciso altri vampiri. E tutto per un'incomprensibile profezia. Basta così. Con te ho chiuso. Non osare toccarlo. E così questo draghetto sfodera gli artigli. La tua voce gorgoglia del veleno dell'influsso di tua madre. Come siete diventate simili. No, perché a differenza sua, io non ti temo. Non più. E tu? Mi trovo costretto a ringraziarti per avere aizzato mia figlia contro di me. Sapevo che era solo questione di tempo prima che tornasse con il cuore gonfio d'odio. Un piccolo prezzo da pagare per migliorare la nostra specie. Sì, sì, la voce del nobile cacciatore di vampiri. E dopo che mi avrai ucciso, chi è il prossimo? Valerica? Serana? Bene. Interessante notare come la tua morale si scansi quando ti fa comodo. Hai proprio ragione. Sto cominciando a stancarmi di parlare con te e con la mia sleale figlia. Ti darò una sola possibilità di consegnarmi l'arco. Non ne avrai un'altra. Molto bene, dunque. Non mi lasci altra scelta. Ho fatto la furbata di lasciare l'arco di Aureal, quindi non so se lo posso uccidere. Sì, la mia voce del neve. Molto bene. Si? MinAsia. Ja, sì. Non. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.